Buongiorno a tutti, ben trovati a questo appuntamento del martedì mattina con iBroker, con Paolo Belvederesi di Zaycos e Gianluca Beccaria che ormai fa parte del team, mi affianca anche questa mattina per commentare i mercati e la situazione, andiamo subito nel vivo perché è come seguire una storia a volte, seguire i mercati, se si perde la puntata precedente non si riesce a spiegare quello che succede nella puntata attuale e oggi posso dirvi che sta cambiando un po' la situazione e su questo dobbiamo fare dei ragionamenti insieme. Perché se noi guardiamo, adesso lo possiamo guardare sia a livello micro micro o a livello settoriale, permettetemi di prendere un attimo la Reuter e vi faccio vedere cosa succede a livello settoriale in Europa, vedete i settori che stanno scendendo di più sono le banche, le banche, il settore delle auto, il settore delle basic resources e il settore trover e leisure. Questi settori sono i settori con cui è salito il mercato nelle ultime due settimane, hanno rappresentato la loro salita, ha concretizzato quella che è stata la rotazione settoriale a favore dei value stock, a favore dei titoli maggiormente esposti alla crescita macro e quindi sulla speranza di un scenario di un recupero dell'economia con una forma V e quindi c'è chi ha puntato in modo massiccio su questi titoli, ripeto, settore bancario, settore auto, settore oil, settore basic resources, questi sono quelli in cui c'è stato i maggiori acquisti sia da parte dei long fund che hanno fatto la rotazione, sia da parte degli edge fund che hanno chiuso le posizioni short. Per darvi un'idea noi abbiamo anche dei portafogli in modello che andiamo a monitorare, in queste ultime due settimane dei portafogli in modello long short in cui le posizioni long sono i titoli grow, titoli con momentum, rialzo delle stime, visibilità degli utili e i titoli short sono quelli con dei fondamentali molto deboli, ebbene tutti questi portafogli in Europa, in America e in Italia hanno registrato performance bruttissime, è come se ci fosse stato un mercato che è andato al contrario, tutti i titoli migliori che sono stati, tutti i titoli che hanno performato di più sono i titoli con i bassi fondamentali e scarsa visibilità degli utili. Attenzione perché quindi oggi, oggi la musica sta cambiando, oggi la musica sta cambiando, il che dà un segnale bearish, cioè proviamo a ragionare, il mercato è salito tantissimo dai minimi di marzo, guardiamo per esempio, possiamo guardare il grafico dell'Eurostox, possiamo guardare il grafico dell'S&P, possiamo guardare tutti i grafici che volete, alla fine sono tutti molto simili, e quello che abbiamo visto è che la salita del mercato, questo è appunto il grafico del CFD sull'Eurostox 50, la salita del mercato è una salita che è stata guidata, in primo luogo dagli acquisti di titoli tech e healthcare, titoli difensivi, titoli che compravano consumer staples, quindi titoli del settore dei supermercati, quindi titoli in cui c'era visibilità degli utili. Poi abbiamo seguito assieme la fase di rotazione, la fase di rotazione è quella fase che ha portato sostanzialmente, guardiamolo magari su sei mesi, che lo vediamo meglio, eccoci qua, la fase di rotazione è partita super giù qua, fase di rotazione che ha determinato questa seconda gamba rialzista in cui a salire sono stati i titoli del settore ciclici, quindi quelli che dicevo prima, titoli value, cioè banche, assicurazioni, auto, basic resources e settore oil, se sovrapponete questo grafico con quello del petrolio vedrete che ci sono delle somiglianze molto forti. Ieri c'è stata un'ultima gamba di rotazione legata al fatto che venerdì ci sono stati dei buonissimi dati sulla disoccupazione o buonissimi, meno brutti e che quindi ha spinto ancora i operatori a scommettere su una fase di recupero a vita dell'economia, adesso dobbiamo chiederci se, e facciamo un ragionamento molto molto semplice, se i barili sono tutti pieni. Io molto spesso faccio questa metafora, uso questa metafora dei barili, per poter effettivamente dare l'idea di quando il mercato è arrivato a un punto di massimo, almeno massimo di periodo. Allora abbiamo riempito tutti i barili dei settori healthcare, tech, consumer staples, questi barili ormai sono pieni, nel senso che difficilmente gli investitori incrementano le posizioni, salvo nuova liquidità, nuovi afflussi di risorse nei fondi. Poi stiamo riempendo invece i barili dei titoli value e abbiamo belli che riempiti questo periodo, perché questo rialzo che vi faccio vedere è un rialzo che è stato fatto proprio grazie ai rialzi di questi titoli. E poi ci sono rimasti i barili dei titoli della terza fase, cioè titoli del settore travel e leisure, quindi compagnie aeree, aeroporti, società che sono esposte al business del turismo, alla navigazione e così via. Anche questi sono stati ben comprati negli ultimi sedute. Basta vedere quello che ha fatto Lufthansa, tra l'altro titolo su cui abbiamo lanciato un'idea di trading a circa 8,5 euro, che ne vale adesso 12, abbiamo lanciato un'idea di trading appunto puntando su queste ricoperture, però anche qua la performance è stata stellare. Cos'è cambiato? Poco, è cambiato pochissimo rispetto a un mese fa, nel frattempo il titolo si è fatto il 30%. Adesso dobbiamo chiederci se questo processo di flussi in acquisto sui titoli value possa o non possa continuare. Sono questi quelli che guideranno il rally dei listini. Allora io dico che bisogna monitorare molto attentamente i flussi su questi settori. Se questi flussi incominciano a venire meno, come accade oggi, allora secondo noi, l'Iza Egos e secondo me, è ora di prendere profitto sugli indici. Ma guardiamo un attimo un'analisi, facciamo un'analisi più micro. Allora, quali sono i titoli peggiori oggi? Unicredito, intesa, Mediobanca, Saipem, Fiat, Azimut, Ubibanca. Cioè è lo specchio a livello micro dell'analisi settoriale che vi ho appena fatto. I titoli che scendono di più sono titoli del settore oil, titoli del settore bancario, titoli del settore assicurativo e titoli del settore auto, visto che Fiat è l'unica casa automobilistica nell'indice italiano. Guardiamo in Europa, non l'ho guardato prima di fare il collegamento. La situazione è molto simile. Abbiamo banche, auto, vedete, settore auto, continental, BMW, Porsche, Daimler, poi le banche, Deutsche Bank, Commerce Bank, poi abbiamo le assicurazioni. Quindi la picture è uguale dappertutto. Vediamo Italia resto, cioè small cap Italia. Titolo peggiore, Banca Popolare di Sondrio. Poi abbiamo Banca Fitnat, Mediolanum, Credito Valtelinese, Cattolica. E poi ancora immobiliare grande distribuzione, che è un titolo che era rimbalzato sulla speranza di un recupero e di un ritorno alla normalità. Quindi sostanzialmente quello che ci sta dicendo il mercato è che da oggi sono tutti un pochino meno convinti del ritorno alla normalità. A salire in Italia sulle small cap abbiamo Reply, a salire in Europa abbiamo ancora Lufthansa e questo è un aspetto, diciamo, un'eccezione che conferma la regola. Ma abbiamo Deutsche Telekom, abbiamo Deutsche Börse, abbiamo Bayer, Merck, quindi Pharma, Utilities che salgono. e se guardiamo Fuzzimib, i migliori del Fuzzimib, torna dopo un sell-off molto importante, torna ad essere comprato Diasorin, che era il titolo della fase 1, torna ad essere comprato Amplifon, titolo le cui performance sono decorrelate dall'andamento macro, perché questi fanno in fatto auricolari per le persone anziane che non ci sentono più, Campari, difensivo per eccellenza, Ricordati, difensivo per eccellenza, Ferrari, difensivo per eccellenza, Telecom Italia, lo stesso, un titolo Telecom, e poi c'è tutta la sagra delle Utilities, Enel, Ternas, NAM, ERA, Italgas. Questo è un mercato difensivo, il mercato ci sta dando un segnale bearish, il mercato sta tornando alla fase 1, cioè ci sta dicendo sostanzialmente che i barili sono ormai belli che colmi, sono ormai belli che colmi perché i barili del settore healthcare, del settore tech, del settore food and beverage, che sono oggi settori in rialzo, sono in rialzo, ma non così tanto, a parte il settore healthcare su cui c'è il tema della possibile fusione sul settore pharma tra Gilead e AstraZeneca, altrimenti sarebbe flatta anche lui, e gli altri settori, tra cui quelli che ho detto, quelli ciclici, sono particolarmente in ribasso. Quindi la nostra call è prendere profitto, abbiamo seguito assieme tutto questo rialzo, e riteniamo che se questo è il messaggio che ci sta dando oggi il mercato, e se dovesse continuare in questi termini anche in prossimi giorni, noi potremmo vedere l'Eurostox in discesa. Quindi questo è il tema, chi era lungo Unicredito e tutte le banche italiane che prenda profitto, chi era lungo Eni eccetera prenda profitto, chi è lungo Enel invece potrebbe almeno performare meglio rispetto al mercato, quindi sta a lui decidere cosa fare. Questa è la nostra view, adesso vorrei sentire anche il parere di Gianluca su questa mia previsione, su questa mia analisi, se la condivide oppure no, perché ovviamente è sempre bene confrontarsi per avere una piccola più completa del mercato. Giallo, a te la parola. Ma allora Paolo mi trovi completamente d'accordo su quello che dici e ti devo dire la verità, anche questo rimbalzo nelle fasi che tu hai citato è stato un rimbalzo comunque molto difficile da cavalcare, io sono abbastanza convinto che questo sia uno dei rally, un altro dei rally veramente meno partecipati di sempre, un po' perché ad un certo punto ha avuto un'accelerazione pazzesca, perché come dicevi tu nella prima fase è stato guidato dai giganti del tech, di tutta la parte digital, di tutta la parte health care, però abbiamo visto più volte report che facevano vedere come alcuni indici nettati da questi titoli poi non facessero chissà quale performance, perché poi tutti noi facevamo la differenza che si era ampliata clamorosamente tra l'Europa e gli Stati Uniti ad un certo punto, poi però da sotto e in questa fase alcuni titoli sono stati dimenticati, Paolo nella prima fase alcuni titoli che nelle ultime due o tre settimane hanno fatto numeri da cinema sono rimasti letteralmente al palo, adesso noi siamo italiani quindi guardiamo il listino italiano, ma non stiamo parlando di diverse settimane fa ad avere titoli comuni credit a 6 e poco o intesa a 1,30 e poco e poi in un attimo hanno fatto il 35-40%, però la rotazione settoriale di cui si parla sovente durante i mercati, questa volta fammi dire che è stata di un'evidenza clamorosa ed è stata direttamente proporzionale a una sensazione di ottimismo che veniva su dal mercato che ha avuto un effetto di rincorsa, come dire, i primi che hanno creduto alla crescita del mercato diciamo un po' appoggiati dalla parte digital e healthcare, sono stati lì a guardare come dire sì è un rimbalzo ma sicuramente scenderà giù, io ho sentito non so quante conference in questo lockdown dei migliori asset manager mondiali pluriblasonati a dire a tutti che si aspettavano prima una gamba di ulteriore discesa o quantomeno una presa di beneficio prima di risalire, ad un certo punto nessuno scommetteva sulla V, anche se abbiamo sentito tutte le forme geometriche possibili e anche non solo geometriche di questa possibile ripresa. Poi però ad un certo punto un po' in concomitanza con la riapertura ha avuto un effetto positivo del tipo quasi quasi mi dimentico, quindi ad un certo punto titoli vegli come le banche, come le assicurazioni hanno iniziato a salire ma con un fattore di rincorsa quasi come sembrava ad un certo punto che arrivassero dei flussi quasi con la paura di perderlo a rimbalzo, quindi alcuni con una violenza incredibile ed altri anche con un fattore di inseguimento notevole. Addirittura ad un certo punto poi si è andata a prendere di tutto, lo citavamo prima, ci stanno comprando i titoli delle compagniere e sono passati da essere tragicamente dimenticati con le più nefaste visioni future ad essere in assoluto i più comprati come non ci fossero domani, abbiamo visto performance double digit non so per quanti giorni consecutivi e abbiamo visto comprare titoli come dicevamo prima fuori onda del chapter 11, non so mi sembra quasi che ci sia stata una prima parte dove il mercato è salito ma con una certa gradualità e con un certo anche scetticismo dove tutti aspettavano la discesa per parteciparvi poi ad un certo punto quando la discesa non c'è stata, c'è stata quasi l'ansia di non partecipare al mercato e lì la rotazione settoriale ha fatto gonfiare questi titoli in maniera clamorosa, oggi si pone il fatto che io qualche giorno fa ammetto di essermi perso gli ultimi 3-4 giorni lavorativi e ho iniziato a scaricare un po' nei portafogli perché veramente mi sembrava tanto, adesso tocca capire se questa discesa è una discesa per magari consolidare un po' il risultato effettuato e magari partecipare a speriamo un'ulteriore gamba di rialzo da prezzi un pochettino più umani e un po' depurati da questa componente emotiva perché mi viene da dire, non so come la pensi tu, che come, io dico sempre, la testa e la coda di questi mercati è già difficile il mercato in genere ma quando c'è questa volatilità è difficile da intercettare però dico che è quasi irrazionale questa testa come è stata irrazionale la coda qualche mese fa forse, forse se ci fosse un po' di presa di beneficio in maniera umana, lo dico, ma un po' di depurazione potremmo vedere un po' di flussi perché secondo me la voglia di partecipare c'è ma molti iniziano a dire a questi livelli però non mi sento più di comprare Beh sì, tra l'altro mi aggancio a quello che dicevi prima sul comportamento dei retail il comportamento dei retail è stato in America veramente rasentato il ridicolo perché non hanno comprato solo Hertz ma hanno comprato altre 3, 4, 5 società che hanno dichiarato il chapter 11 facendo registrare delle performance superiori al 100% in poche settimane e questo ha portato poi i fondi Edge che erano corti a doversi ricomprare quei titoli senza potersi dare una spiegazione del fatto che salissero poi c'è un altro aspetto che è una statistica molto interessante Le posizioni lunghe sul mercato call, sul mercato delle opzioni sono ai massimi da sempre Questa mattina mettiamo un grafico sul nostro commento di preapertura che evidenzia appunto questo aspetto il 50% dei volumi fatti sul mercato delle opzioni dello standard and poor la scorsa settimana il 50% è stato fatto dai retail è un mercato americano in mano ai retail e questo è molto buffo che stando a casa per il lockdown per un motivo o per l'altro si annoiano e non fanno cosa fare e hanno scambiato il mercato azionario per il succedanio della Playstation e quindi stanno comprando opzioni come nel 2000 gli italiani compravano i covered warrant con la stessa facilità c'è però un problema che se tu compri opzioni call dall'altra parte c'è un market maker che te l'ha quotata e che si deve comprare il delta che si deve comprare i titoli sottostanti e se ne deve comprare tanti più quanto più il mercato sale con un ma il ma è che poi se il mercato scende degli stessi titoli che si è comprato per coprirsi la posizione short call che è lui in cui si trova lui market maker gli stessi titoli si deve andare a rivendere sempre per l'aggiustamento del delta dell'opzione morale della favola tanto più questa presenza di investitori retail è elevata sul mercato tanto più le posizioni sulle call sono elevate tanto più il mercato potrebbe diventare volatile nelle prossime sedute e soggetto a sell off velocissimi mi fa piacere che mentre parlo l'Ero Stoxx continua a scendere questa mattina sul commento mercato che succede vi hanno detto shortiamo devo dire l'abbiamo detto anche ieri ci siamo fatti male e oggi però la call è molto più forte perché abbiamo un riscontro a livello micro di questa view il mercato sta vendendo i titoli value quindi il mercato americano adesso è un pochino vulnerabile il mercato europeo non c'è questa attività dei retail così vistosa come quello americano però ovviamente se viene giù l'America viene giù anche l'Europa e il comportamento di oggi del mercato europeo tra l'altro con ribassi anche importanti a livello settoriale mi fa pensare che uno non siano solo gli europei a vendere ma siano anche gli americani e che due questo pattern lo vediamo anche giù pomeriggio io mi aspetto un mercato americano che chiuda intorno almeno uno e mezzo o meno due oggi per questo motivo cioè legato al posizionamento tecnico sul mercato delle opzioni e al posizionamento anche della chiusura della rotazione già lo dici qualcosa un po' su la riunione della BC della scorsa settimana e anche perché in molti ci chiedono sempre ma ai BTP cosa dobbiamo fare dobbiamo comprarceli non dobbiamo comprarceli cosa faresti sul mercato corporate se lo terresti oppure no? siamo curiosi ma allora sul mercato corporate ti devo dire la verità anche lì è stato un mercato completamente dimenticato per almeno in Europa per diverse settimane io accennavo qualche settimana fa a alcuni bond senior di banche italiane senior ripeto che erano rimasti assolutamente al palo come nulla fosse successo quindi alla prima parte devo dirti abbondante almeno il 50% del rimbalzo fatto non hanno fatto assolutamente una piega nonostante anche lo spread stesse un pochettino diminuendo nonostante il mercato devo dirti che il mercato obbligazionario sai quando si dice che ogni tanto l'equity è il bancomat dei mercati che il mercato obbligazionario per sua natura è più il liquido però questo porta sia nel bene che nel male non valutazioni incredibili cioè a parte una differenza tra prezzo a comprare e prezzo a vendere il famoso BDASC che ti permette ogni tanto su qualche titolo veramente di vedere dei numeri incredibili ho visto su bond senior differenze BDASC di 3-4 punti e sui senior non parliamo poi sugli AT1 o sui subordinati o su altri strumenti un pochettino più diciamo esotici se possiamo dare questa definizione ma per darti un'idea io avevo un bond ho visto un bond senior di MPS con un'emissione di se non sbaglio 700-750 milioni quindi non proprio piccolissima abbastanza liquida 3.625 scadenza 2024 valeva tienti forte Paolo due settimane fa mettiamo 3 ma sono convinto due settimane fa valeva tra 88-89 quindi vuol dire un rendimento a scadenza del 6,5 senior allora siccome la mia parte più di convincimento cioè la mia parte di esperienza è più sul mercato bond che sull'equity ho proposto qualche operazione a qualche cliente e sai per la legge di grandi numeri ogni tanto qualcuna giusta le fai non su tante che le fai visto che dicevamo prima del fatto che molti si autocelebrano questo titolo in un attimo nel giro di pochissimi giorni l'abbiamo venduto tra giovedì e venerdì al 101,55 performance del 12,5 in due settimane ma ti assicuro per dirti il meccanismo al di là del prezzo su qualche cliente non sono riuscito più a prenderlo cioè quando si inseguono gli acquisti è incredibile perché tu ti vorresti mettere non proprio a comprarlo al primo prezzo magari ti metti a mid market a metà perché ti scoccia a vedere se sono tre punti di denaro lettera non lo prendi più quindi questo per dirti cosa sul mercato dei bond che mi sembra che da quando Germania e Francia hanno fatto quella famosa conferenza stampa in cui hanno parlato del recovery fund sia cambiato il clima ci è cambiato il clima perché comunque al di là della parte fattiva è un momento epocale perché anche se soltanto per questo diciamo tema del covid-19 pensare che anche una piccola parte di debito sia condiviso è un passo avanti ormai quasi insperato dell'Europa perché sai Paolo quando tu dici speri tanto in qualche cosa e poi per un motivo per un altro non si realizza mai c'è qualche paese che è d'accordo altri non sono d'accordo e poi quando sono d'accordo i piccoli non sono d'accordo i grandi ad un certo punto perdi le speranze e di punto in bianco quando hanno parlato di questo piano che comunque per l'Italia vuol dire cifre importanti perché se non sbaglio correggimi vuol dire 80 billion più o meno a fondo perduto che poi a fondo perduto vuol dire che rispondono tutti gli altri stati e 90 di prestiti ad un tasso che dovrebbe essere sotto i 10 basis point mi sembra 8 basis point su una scadenza estremamente lunga è un po' cambiato il clima nel senso che sugli stati più indebitati come il nostro sapendo che c'è oltre al cappello della BCE questo piano molto molto forte mi sembra che sia tornata un po' di fiducia si riflessa immediatamente nello spread italiano che sicuramente sarà ancora sensibile a variazioni non penso che andrà da qua giù dritto verso una riduzione in maniera unilaterale però secondo me se faccio il calcolo relativo rispetto ad altri stati probabilmente ha ancora da dare l'unica cosa di cui farei un po' attenzione è di prendere una duration lunghissima perché sulla duration si possono fare tanti soldi se si riduce lo spread ma è altrettanto vero che un po' di tema inflattivo anche se non se ne parla mai è talmente prezzato a zero che per poco che non nasca su potrebbe essere una variabile da considerare ok benissimo grazie mille Gianluca per il tuo intervento io penso che per oggi abbiamo dato un sacco di informazioni abbiamo messo un po' di carne sul fuoco adesso da vedere se questa lettura che abbiamo fatto dei mercati trovi riscontro nelle prossime sedute in quella odierna però ecco da come vedo che continuano a muoversi gli indici forse qualcosa di giusto l'abbiamo detto per ora poi vediamo cosa succede nel pomeriggio e domani per oggi direi che è tutto ti ringrazio Gianluca grazie a te Paolo ci risentiamo perché non ci vediamo ci risentiamo la prossima settimana ciao a tutti e grazie